Stasera siamo qui tutti riuniti, c'è una bella forza di persone a festeggiare il campionato che abbiamo vinto nell'anno 2020-2021. Sperando che ora, prossimo anno, venga un'annata ancora migliore dopo questa pandemia. Stiamo riniziando alla grande il club, abbiamo già un 100 iscritti e c'è un'affluenza molto numerosa. Speriamo che in futuro questa pandemia possa finire e si possa ritornare tutti allo stadio a tifare la nostra caramata Amala. Per vedere le partite c'è sempre qui al Circolo La Gruccia, abbiamo lo schermo dove possiamo vedere tutte le partite quando l'Inter gioca. Poi le domeniche possiamo andare a Milano a vedere le partite e facciamo sempre il pulmo. E poi la gente viene qui al Circolo. Inter! Forza! Inter!